Andare sul balcone e guardare la nostra cittadina. Che cacchio è successo? Oh no! È ormai passato parecchio tempo da quando ho finito il progetto più grande della storia di Minecraft Survival Italia. Un progetto davvero ambizioso che mi ha richiesto tantissimo tempo, ma il risultato è stato un qualcosa di spettacolare. Quando abbiamo finito quel progetto ho startato una live, che vi ricordo faccio ogni giorno alle due un quarto di pomeriggio e alle nove un quarto di sera, completamente senza una direzione. E ho chiesto alla mia chat, quindi a voi, se avevate piacere nel vedere un nuovo progetto e in caso se avevate anche qualche consiglio. Ho visto che eravate più propensi verso i cartoni e quindi ho preso la grandissima idea di ricostruire l'intera mappa di Adventure Time all'interno del mio mondo survival. Stagione 2, perché la prima l'abbiamo chiusa da un bel po'. Quella dove ho ricostruito Hogwarts, ma se volete c'è un bellissimo tour sul mio canale se ve lo siete perso. Ed è bene sì ragazzi, abbiamo finito. E oggi ve la voglio mostrare. Ma ancora prima di fare ciò, andiamo a dormire e vi voglio parlare un attimo di questo progetto e come si è strutturato. E anche le cose che mancano, perché ho deciso di omettere una piccola parte della mappa. Iniziamo con il primo regno, il regno di Re Ghiaccio, che ora vedete in quello che sembra un bioma artico, ma in realtà è stato costruito completamente a mano dal sottoscritto. Ho preso un bioma di una pianura e l'ho completamente spianato riempiendolo di neve. Ed infatti, come potete vedere, ci sono ancora delle mucche in giro. Oltre a questo bioma della neve, ho deciso di mettere varie spike di ghiaccio in modo da decorare e poi la montagna centrale, ovvero la montagna di Re Ghiaccio. E se vedete tutti questi tappeti in giro, semplicemente vanno a nascondere delle Sea Lantern che fanno luce. Perché mi ero ripromesso di illuminare tutto quanto in modo da evitare gli spawn di mob, però purtroppo non sono riuscito appieno a fare questo lavoro. Ma tra poco vedrete esattamente di cosa sto parlando. Per entrare nel castello di Re Ghiaccio dobbiamo salire da queste bellissime scale e una volta arrivati in cima possiamo trovare una piccola prigione, un divano, il suo letto e una sala allenamento. E ovviamente la faccia di Re Ghiaccio intagliata nella montagna. Mentre invece se andiamo giù troviamo una stanza bella grande, che è questa qui che ho deciso di illuminare perché mi spawnavano sempre dei grandi mob, tra cui dei creeper, con cui sono successe cose molto ambigue. E anche questa stanza qui. Non saprei onestamente cosa farci perché non ho grandi ricordi, ma l'unica cosa che so è che c'era il pinguino Gunther. E se vi state chiedendo dove era il ghiaccio, a breve ve lo faccio vedere perché ho costruito anche lui. La seconda costruzione che ho deciso di fare è il regno di Mela Verde, un personaggio molto sottovalutato e che ho voluto costruire perché guardando un attimo la mappa avevamo diciamo 4 regni principali più alcuni extra. E questo mi sembrava molto carino, soprattutto per quanto riguarda questi alberi arancioni, che ho costruito utilizzando della lana, della concrete e della concrete powder. Tutti fatti completamente a mano casomizzati. Invece per quanto riguarda la casa, purtroppo non ho fatto un granché degli interni, ho fatto soltanto questo cammino qui che vedete, con delle poltroncine. Da fuori sembrerebbe anche quasi che c'è una mansarda, ma purtroppo qui dentro non c'è nulla. Anche perché in realtà nel cartone se non sbaglio non fanno vedere molto, l'unica cosa che sono riuscito a trovare appunto è questa qui. Però avevo piacere nel ricordarla. Mentre mi avvicino a questa costruzione gigante, che probabilmente state anche già iniziando a riconoscere, vi voglio dire quale regno ho deciso di non fare. E sto parlando del regno di fuoco. Che non soltanto è gigantesco, ma è anche particolarmente vuoto tranne per alcune zone. E mi avrebbe preso una zona troppo grande, che ultimamente con tutti i progetti anche che sto portando avanti con gli altri giochi e il mio trasferimento, non riesco a fare. Ma magari in futuro ci tornerò. Per il momento vi voglio far vedere quello che sono riuscito a fare, che è comunque veramente tanto ragazzi. Qui potete già iniziare a vedere quest'acqua rossa, che è l'acqua di Dolcelandia. Un'acqua che è fatta di caramelle sciolte, se ho capito bene. E potete anche già iniziare a vedere una costruzione molto familiare in lontananza. L'entrata per il regno di Dolcelandia l'ho voluta fare connessa al regno di Raghiaccio e allo stesso modo all'albero di Finn e Jake. L'ho fatto utilizzando la polvere di calcestruzzo che ho tirato fuori dalla mia farm di sabbia. E se siete interessati c'è anche il video di quella lì sul mio profilo. Questa farm di sabbia mi ha veramente clacciato, perché quasi tutto quello che vedete qui è stato fatto con concrete, sandstone, polvere di calcestruzzo, come potete vedere. E invece la lana l'abbiamo fatta sempre con la mia farm di lana, anche quella molto overpower, perché sfrutta un glitch di duplicazione delle stringhe. Magari più tardi ve le faccio vedere entrambe. Per quanto riguarda il regno di gomma rosa, ho deciso di fare tutta la cittadina intorno, che sta dentro alle mura. E l'unica cosa che non ho costruito attualmente sono degli omini che dovrebbero essere su queste mura, che sono un po' i difensori. Non so se ce li avete presenti, ma sono delle vending machine giganti, che fanno delle bolle di sapone, mi sembra. Carucci, ma molto complicati. Mentre invece, per quanto riguarda tutte queste costruzioni esterne qua, sono belle, fanno atmosfera, ma purtroppo nessuna di queste ha gli interni, tranne poche dove ho semplicemente messo del pavimento. Ho un minimo di decorazione giusto per non lasciarli vuoti, ma come sapete io negli interni non sono molto forte. Avrei bisogno di qualcuno che sta qui sulla mia spalla e che costruisce al posto mio gli interni. Fatemi sapere se siete bravi perché potrei darvi il mio mondo. Non sto scherzando, ragazzi. E qui ho fatto il pavimento utilizzando invece il calcestruzzo grigio. Ho fatto dei ponticelli che collegano le varie zone della nostra cittadina, utilizzando invece degli stone bricks. Nulla di troppo estremo. E ovviamente ci sono i canali che passano per il mezzo del paesino. Questa, diciamo, è la zona un pochettino più moderna, più arredata. Passando da qui sotto, invece, se non sbaglio, si arriva alla zona abbandonata. Diciamo a quelle che si possono chiamare le favelas. E per dare un effetto un po' più realistico, ho scopiazzato palesemente dai villaggi di Minecraft quelli abbandonati, il fatto di metterci le ragnatele, oppure i cartelli sulla porta, e così via. Qui abbiamo anche abbozzato dei lampioni. E per qualche strano motivo sono rimaste delle pecore in giro. Ciao! Andando di qui, invece, si possono notare tutti degli alberelli che volevo mettere anche nella zona esterna, che sono customizzati utilizzando della lana rossa e del quarzo liscio, se le volete fare anche voi. Qui c'è un piccolo castello, dove però non ho messo degli interni, ho semplicemente messo delle lanterne in modo da non far spawnare i mostri. Perché, come vi ho detto, ho lavorato tanto sul fatto di illuminare tutto, anche se in realtà questo villaggio, purtroppo, ospita dei bellissimi mob durante la notte, perché non sono stato così efficiente con l'illuminazione. Ma è comunque un progresso, no? E qui, per arricchire un po' il design delle case, ho fatto dei bastoncini di zucchero, un po' come se fosse Natale, stile come si vede nel cartone. Per accedere all'edificio principale possiamo utilizzare queste torri, e ce ne sono ben quattro, oppure possiamo utilizzare questa scala qui. Dentro alle torri sono riuscito anche a fare le scale, che ci portano in cima con questo bastoncino di zucchero, mentre invece queste scale, diciamo che, non portano a niente di buono, o almeno dipende dai punti di vista. Infatti, di solito, conviene utilizzare la torre, che ci porta qui, in modo da poter accedere tranquillamente a questa zona. E vi prometto che qui gli interni li ho fatti, e mi ci sono anche impegnato, ragazzi. A differenza di qui sotto, dove non sapevo propriamente cosa mettere. Una volta entrati, ci sono tutti questi tappeti che ci portano nelle varie zone del castello di gomma rosa. E ho voluto utilizzare questa trapdoor con l'illuminazione, in modo quasi da fare il simbolo di uscita a exit. Ho costruito dei bagni, una cucina, e delle piccole stanze che fungono da magazzino. E ovviamente anche delle stanze da letto. Inutile dire che le quattro torri sono collegate una con l'altra. Abbiamo fatto anche una piccola scuola per gli scolaretti di Dolcelandia, perché si chiama Dolcelandia questa qui. La sala controlli, e se si sale su da delle scale che ho letteralmente copiato da quella che è la torre, possiamo trovare la fabbrica di torte. E se questa costruzione vi sembra semplice, fidatevi che fare tutte queste torte è stato veramente un parto, e soprattutto ho dovuto utilizzare anche delle anederite per questo blocco qua. Torte che vanno per tutta questa direzione, in modo che le possiamo vedere anche da qui fuori, e arrivano fino a qui, dove poi andranno imbustate in quella zona là. Anche qui ho deciso di fare delle piccole stanzette, decorate giusto al minimo, e così è come si vede quando andiamo ad osservare le nostre torte. Poi se saliamo di un altro piano, o no, o no, o no, comunque qui abbiamo da dove partono le nostre bellissime cascate, che poi si estendono per tutto il villaggio, e ho deciso di decorare utilizzando questo legno qui, che è poi lo stesso legno del tronco dell'albero gigante della cima di Dolcelandia. Qui sopra, devo dire la verità, mi sono particolarmente divertito e sbizzarrito con i blocchi. Addirittura sono riuscito ad arrivare ad utilizzare questo che abbiamo preso con Silk Touch Downwarden, e ho utilizzato pure quel blocco lì che ho scoperto l'ultima volta, perché voi maledetti me l'avete fatto saltare in aria nella piramide gigante. Se ve la siete persa, riguardatevi il video perché fa spaccare. E da ciascuna di queste uscite, noi possiamo andare sul balcone e guardare la nostra cittadina. Che cacchio è successo? Oh no! Ok, forse ragazzi avrei dovuto illuminare meglio questo posto, eh? Dove è saltato fuori quel creeper, tra l'altro, mannaggia? Adesso mi tocca risistemare sta zona. Salendo poi sopra di un piano, arriviamo all'ingresso del nostro albero gigante che vi menzionavo prima. In questo posto ci sono tante piccole stanzette che ci portano a delle scale e che ci portano poi al drago, che viene tenuto nascosto qui dentro al castello di Dolcelandia. E siamo finalmente arrivati all'albero. Albero dalla chioma bianca e non avete idea di quanto tempo siamo stati alla farm di lana per ottenere tutta questa lana qui. Che poi si estende anche in cima e più tardi vi faccio vedere di quanti blocchi stiamo parlando. Prima vi voglio mostrare però questa l subliminale nascosta, così per voi che avete guardato questo video potete flexare di sapere dov'è. E ne ho fatta anche un'altra qui davanti. E questa zona del miele è possibile soltanto grazie alla farm che abbiamo fatto nella scorsa megacostruzione della piramide. E qui per decorare un po' ho deciso di utilizzare le radici di mangrovia, se non sbaglio si chiamano, e le shroom light. E siamo stati più o meno due ore a piazzare a mano ogni singolo blocco di questa chioma bianca qui, dell'albero. E con tanta fatica abbiamo appeso anche delle shroom light volanti a queste catene. E per quanto riguarda Dolcelandia, questo è tutto. Poi una sera, in maniera molto esotica, ho iniziato a costruire quello che era il tronco di un albero. E ho cercato di sbizzarrirmi in modo da non farlo uguale a quello che ho fatto nella mia vecchia survival che adesso vi mostro. Questo qua, volevo fare un qualcosa di più grande e soprattutto più consono alle altre costruzioni che ho già fatto riguardanti la mappa di Adventure Time, che se non si fosse capito è il mio cartone preferito. Ho fatto davvero tante cose nel mio mondo survival vecchio, le ho dedicato a una zona completamente del mio villaggio. Durante la mia ultima maratona di 24 ore ho finito di costruire questa zona qui, aggiungendoci dei piccoli sassi tutti intorno, mettendo dell'erbetta e dei fiorellini. E soprattutto abbiamo illuminato tutto questo stagno in modo da non far spawnare troppi mostri. Qui come vedete abbiamo Finn e abbiamo Jake, e sopra l'albero potete anche vedere Reghiaccio e c'è anche Marceline. Mi sarebbe piaciuto fare gomma rosa, ma mi sa che la farò sopra il suo castello, quando pian piano riuscirò a finire tutto in questo mondo. Sfortunatamente per quanto riguarda l'albero di Finn e Jake non ho costruito praticamente niente dentro, ma l'esterno è venuto davvero davvero bello e l'ho fatto utilizzando la concrete, che come al solito mi ha prodotto la mia farm di sabbia. Però per gli interni abbiamo tanto tanto spazio disponibile e a differenza dell'altro posto è tutto illuminato, perché mi sono successe troppe cose e ho detto ok, troppi creeper, illuminiamo. E a differenza di altri posti qui sappiamo benissimo cosa c'è dentro alla casa, quindi volendo lo possiamo ricostruire. Il poco che ho fatto lo vedete qui e di solito dormivo qui la notte. Ah e mi sono dimenticato, il personaggio più importante di tutti, Bimo! Guardate che carino! E non mi sono sicuramente fatto mancare i dettagli ovviamente. Qui ho fatto anche un bel pozzo e abbiamo messo un sacco di cactus sparsi in giro. Ho sentito un creeper esplodere o sbaglio? Impossibile non avere un incontro con un creeper in ogni singolo episodio. Questo qui era ghiaccio, qui abbiamo Marceline con il suo bellissimo ombrello, con tanto di scheletro sopra. Grazie mille Marta per l'idea. E sono riuscito a costruire tutto questo in circa un mesetto e nel frattempo abbiamo fatto anche un progetto di Dragon Ball e sto portando avanti un progetto per voi, dove andrò a mettere tutte le personcine che ci sono in questi libricini, che scrivo durante le mie live. Sono le persone che mi supportano e se vuoi supportarmi anche tu, ti ricordo che con Amazon Prime l'abbonamento sulla piattaforma viola è gratis. Tra l'altro, piccola chicca soltanto per voi che guardate il video, gli alberi della zona di Mela Verde li abbiamo sperimentati qui nel mio villaggio, ho deciso di tenerne uno. E come vi avevo promesso, ho iniziato anche a fare quelli che sono i collegamenti tra le mie costruzioni, perché mi piacerebbe sistemare tutto in modo da darvi un download del mondo fatto come si deve. Tra l'altro ho anche incredibilmente degli upgrade per quanto riguarda l'ossidazione, infatti questo rame si sta ossidiando davvero bene. E lo stesso vale anche per la Statua della Libertà, perché sono andato a togliergli tutte le torce e come vedete la base sta iniziando per bene ad ossidarsi. E per correttezza vi faccio anche vedere le farm che abbiamo utilizzato per produrre tutta quella lana, perché la farm di sabbia l'avete già vista in uno scorso video. Non ne ho usata soltanto una, ma ne ho usate ben tre. E sono probabilmente le farm più overpower che troverete di lana, a meno che fate un qualcosa di gigantesco con le pecore, ma sono abbastanza sicuro che non batterà la velocità di queste. C'è una sorta di glitch di duplicazione che va a sfruttare delle trapdoor e un pulsante che se noi andiamo a cliccare attiva e disattiva questa farm. Tra l'altro l'inventario è pieno di buon miel perché abbiamo fatto tutto il prato l'altra volta in live. E niente ragazzuoli, io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito ti ricordo di lasciare un like e iscriverti se ancora non l'hai fatto. E da Lollo e il suo avatar di Camilla è tutto, ci vediamo in live!